Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Io lavoro in un centro sportivo Faccio il duty manager Noi nel tuo caso particolarmente Perché dici? Perché è duty manager Non beauty Duty significa No no La mia non è Io sono sempre in pantaloncini corti e maglietta Quindi niente apparenza Sull'apparenza degli altri Ah no Se uno va in palestra sicuramente fa il fitness Ma ci sono diversi modi di pigliare il fitness Cioè quelli che lo pigliano In maniera diciamo ostentativa E quelli che lo fanno perché gli fanno stare bene Io sono più la seconda Sì eh Sì eh Sono sempre fatto sport in correo Ah però infatti si vede che c'è un gran corrido Ah però infatti si vede che c'è un gran corrido Però facevo 20.500 E non sono mai andato a chiudermi in palestra Quindi non so come sia Ah la palestra L'ITIS meccanica Infatti adesso Quanti dischi ci sono? Infatti ci sono tutta la storia della piscina Che mi torna utile La idraulica Cazzo Ah sì a San Lazzaro Dove c'è l'andrangheta Oh non mi prende per il culo che mi fai ridere poi cado No no sono già caduto tre volte Eh no perché io lo prendo dall'altra parte Non sono mica scemo Sì però dopo praticamente Se la tolgo Dopo cosa succede Che questa fare qui Blocca anche Mano no Quindi quando cambio la mano Perdo l'equilibrio Se non c'è un cambio normale Faccio PANG E poi esco Dopo sono alla frutta Eh veramente su YouTube Dove c'è l'infermata in vendita Ah comunque due Penso che neanche questa prospettiva sia eccezionale Però Purtroppo Ma in realtà In realtà quella piattaforma là sarebbe il meglio Sì 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 no 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 bebe iniziale mancava che costruirevi un trolley così ma quello mi sa che l'hanno comparato già fatto no ma comparlo non ha senso se ti impurano di avere delle buone batterie si no no è proprio quello che di aspettare cioè quando gli altri i tuoi compagni di squadra non fanno vedere la motivazione che ne che che serve è proprio lì che guarda ma te lo manda a cagare bellissima gli è scesa sulla porta mera dai giochi dai salini dai attenzione si questa è ottima questa storia qui dall'immagine tipo bravo max bravo ma a me era una palla vai riprese da qua ma no è perché è scomodo dovrei studiare una storia di mettere di mettere una specie di sedile qua tipo arley davidson ma è già pesante da portarsi dietro anche prendere il pool è una bella è una bella sfida no però vedi adesso quando sali io devo aprire tutto e cercare di beccare dove va dopo quando va a vedere di solo gioco ma sì però alla fine non lo so adesso comunque qua oggi sono gran prove infatti non dovrei neanche parlare perché poi se parlo dopo devo togliere il mio sì però i rumori di sottofondo sarebbero ottima da lasciare io ovviamente li posso lasciare solo se non c'è la mia voce sennò dopo li devo seghare no no ma anch'io ma questa qua è una prova adesso se lo faccio seriamente non riparlo tanto a copenaghen che cazzo vuoi che trovi trovi ma la gestione dello zoom è difficile ma era che la massa 30 donne e un massimo ciao mamma grande frey ha rovinato la registrazione si e il vocal sarà eliminato però da adesso in avanti da quando siete esattamente a quando siete comparsi voi non so bene ciao non so bene cos'è inquadrare cioè se il campo il disco ok però cioè se tu per uno che vuole analizzare lo schema ma lo schema riesci a prendere bene da qua si ma adesso quando loro attaccano di la si quando poi vengono di qua filmi per piacere e perchè studiare il partito no filmo perchè vorrei aprire un canale youtube ah la cosa che ci sta youtube perchè non c'è nessuno che la passi in Italia esatto allora ho detto vedi questo potrebbe essere il mio ruolo ho sempre fatto così anche quando suonavo gli strumenti ho iniziato a studiare la chitarra poi sono arrivato nel gruppo c'erano già due chitarre ho detto vabbè allora suonano il basso infatti dopo ho suonato il basso ma è stato figo eh il basso è figo se impari a slappare però sicuramente non eri classico passista cappello lungo sfondato e invece si vecchio proprio lì ti sbagli eh si cappello lungo vecchio sai poi perchè non l'ho tolto per col eccolo ho perso ho perso ai 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 gioco oh dai giocchi dai giocchi schiari fuori fuori ai 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 nosi vai non che avanti grazie Sì, vabbè, vabbè. Sì, vabbè, vabbè, vabbè. 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 Vabbè.